Il duca e la duchessa di Cambridge hanno partecipato a una partita di cricket per beneficenza durante un soggiorno a Mumbai, prima tappa di un viaggio di una settimana in India. Il principe William e sua moglie Kate hanno incontrato tre organizzazioni non governative che si occupano di aiutare i bambini poveri della megalopoli indiana.